E io ho fatto un brano che si intitola Cornelio, che era il re dei cornuti, pensate un po'. Che cos'è, che cos'è, che non va? La Yolanda è la mia dolce metà, siamo sposati da tre anni, senza ciacchi e senza fanni, tutto fino a perfezione siamo qua. Che cos'è, che cos'è, che non va? La Yolanda quando scende giù in città, con il seno suo sporgente, il sedere è un po' anch'eggiante, esco tutti per guardarla camminare. Tu sei il pettino, ma ci chiamano Cornelio, mia moglie mi vuol bene e son contento. Tu sei il pettino, ma ci chiamano Cornelio, Yolanda mi vuol bene e son contento. Va, 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 dove va? Ma cosa fa? Non si sa. Va, 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 dove va? Ma cosa fa? Non si sa. Che cos'è, nell'estate, che non va? A Riccione e la Yolanda se ne va. Prende il sole quattro mesi, torna a casa con dei soldi, è un diamante da milioni Alibaba. Cosa fa in settembre, cosa fa? Il crociera le va, ma se ne va. Poi mi scrive dopo un mese, che non sa se tornerà, ha incontrato un bel negrone Mustafa. Tu sei il pettino, ma tu sei pure il Cornelio, Yolanda mi vuol bene e son contento. Tu sei il pettino, ma tu sei pure il Cornelio, Cornuto tu sei doppio più di un cervo. Cosa fa? 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 Grazie a tutti. Dove va? Ma cosa fa? Non si sa. Che cos'è nell'estate che non va? A Riccione la Iolanda se ne va. Prende il sole quattro mesi, torna a casa con dei soldi e un diamante da milioni e lì va va. Cosa fa in dicembre? Cosa fa? A Madonna di Campiglio vuole andare. In aprile torna indietro con la bella novità. Ora stai per divertire un bel papà. Tu sei il peppino ma tu sei pure il corneglio. Iolanda mi vuol bene, son contento. Tu sei il peppino ma tu sei pure il corneglio. Corluto tu sei il doppio più di un cervo. Viva la torna e qui le sa portà. Yeah!